Un'amicizia che taglia il traguardo del mezzo secolo di vita, quella che è nata fra la città di Sulmona e Costanza, che in queste ore viene suggellata con buoni propositi e nuovi progetti. Il forte legame fra le due comunità si sta consolidando grazie alla visita istituzionale che il comune di Sulmona sta tenendo a Ovidio, un viaggio che rientra nel cartellone di Ovidio 2017. Nel corso della tre giorni, alla quale hanno preso parte il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, il presidente del Consiglio Comunale Katia Di Marzio e il dirigente scolastico del Polo Manistico Caterina Fantauzzi, è stato stabilito che le due cittadinanze si incontreranno una volta l'anno e la mostra Metamorphosis Beyond the Shape sarà esposta prima a Costanza nel mese di settembre e poi nel Parlamento di Bruxelles. Un accordo è stato siglato fra la preside del liceo classico romeno e la preside dell'Ovidio di Sulmona per invigorire quel gemellaggio cominciato tanti anni fa. Abbiamo invitato la delegazione di Costanza a venire a Sulmona in occasione della cerimonia di apertura del bimilenario, annuncia il sindaco Anna Maria Casini, il primo cittadino di Costanza, che si è complimentato per le iniziative Marchio Video 2017, che adotteranno anche loro come fare comune di Ovidio, che sta ospirando la delegazione sulmonese in questo entusiasmante e proficuo viaggio istituzionale, annunciato che sarà presente nella nostra città, proponendo ulteriormente di svolgere le iniziative insieme. Abbiamo concordato che per il cinquantenario del gemellaggio saranno realizzate due cerimonie, sia in terra Peligna che Romena conclude Casini.